carissimi fratelli serele pace e bene buongiorno per tutto il giorno oggi celebriamo la prima domenica di avento meditiamo il vangelo di luca capitolo 21 versetti 25 a 28 34 a 36 in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli vi saranno seni nel sole nella luna e nelle stelle sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra le potenze dei cieli fatti saranno sconvolte allora vedranno il filo dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria quando cominceranno ad accadere queste cose risolevatevi alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina state attenti a voi stessi che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi appiombi addosso all'improvviso come un laccio i fatti essi si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al figlio dell'uomo parola del signore come abbiamo introdotto oggi celebriamo la prima domenica di avvento la parola avvento viene da latino adventus che significa attesa o venuta noi siamo in attesa di gesù che verrà a natale ma quando parliamo dell'attesa abbiamo due eventi di questa attesa c'è la prima attesa cioè che columina sul natale e poi l'ultima attesa quando gesù verrà nella sua gloria ciò che si chiama la parousia alla fine dei tempi allora tempo di avvento è un tempo favorevole è un tempo di speranza abbiamo sentito nella prima lettura il profeta geremia che pronuncia l'accompimento della parola cioè dio dio ha detto che realizzerà la sua promessa la sua parola che dare se c'è salvare il popolo come lui salverà il popolo mandando il suo figlio e perciò carissimi anche noi di questo tempo siamo un po angosciati disturbati preoccupati cioè ci sono tanti eventi che ti spezzano il cuore ma qui siamo invitati ad approfittare per alzare lo sguardo verso il cielo come come ha detto il salmista a te signore innalzo l'anima mia il confido confidiamo nel signore perché questa attesa è proprio il nostro momento di salvezza di liberazione lo dirà san luca anche nella del vangelo dicendo che ecco quando sentirete tutto quello e tutti questi eventi terrificanti non dovremmo avere paura ma alziamo il capo e risolviamo e alziamo il capo perché la nostra liberazione è vicina allora quando luca è presente a questi eventi che fanno paura non è perché vuole farci paura di questa fine del mondo no ma soltanto per dire ecco e ora è il momento in cui dio viene a cambiare la faccia della terra dunque il mondo vecchio passerà il mondo che ha peccato con adamo passerà e arriverà il nuovo mondo con gesù cristo dunque perciò non dovremmo avere paura sentire questi eventi questa fine del mondo è un bene per noi perché proprio il vecchio mondo che passerà per instaurare il rende di dio cioè il nuovo mondo con gesù cristo allora questa attesa signore carissimi non dovremmo rimanere passivi ma attivi l'evangelo ha detto nella preghiera nella preghiera vediamo nella preghiera dunque la preghiera ti permette di essere fedeli al signore la preghiera ti permette di mantenere il contatto con il signore vediamo giustamente così quel giorno non sia una sorpresa per noi vediamo non soltanto per non essere sorpresi ma così la festa di natale non sia soltanto una festa di regali materiali ma che sia una festa di dei regali di amore di bontà di giustizia di accoglienza di consolazione questi sono i regali che potremmo offrire durante natale ecco questo vuol dire che dovremo sempre confidare nel signore vediamo per non lasciarci ingannare dalle cose di questo mondo allora carissimi l'avvento tempo di gioia tempo di salvezza per noi non ti scoraggiamo manteniamo la nostra fede del signore confidiamo nel signore arriviamo sempre il nostro capo verso di lui con lui vinceremo ogni cosa con lui troveremo la consolazione vieni per questo l'unica condizione che paolo pone nella seconda lettura è proprio l'amore e viviamo questa attesa nell'amore con amore e per amore solo con questo amore concreto che naturalmente sentiremo questa nostra consolazione che dio ci aiuti ti benedica santa domenica a tutti